Per un attimo hanno temuto il peggio quando stamane, leggendo le prime pagine di alcuni giornali nazionali, hanno letto titoli del calibro nazismo, no ai risarcimento, ma dopo qualche telefonata sono arrivate le rassicurazioni, nessun rischio per i discendenti dei sei martiri dell'Eccidio di Fornelli, che otterranno, come previsto, il pagamento degli indennizi per i loro avi morti per mano nazifascista. E' notizia di oggi, infatti, che l'Avvocatura di Stato e i numerosi processi per le stragi avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale si è costituita in giudizio per bloccare il risarcimento già previsto attraverso un decreto dell'allora governo Draghi. Pericolo scampato, invece, per Fornelli, in quanto la sentenza che riguarda il borgo in provincia di Sernia è già passata in giudicato. Questo significa che non potrà essere presentato nessun ricorso. A confermarlo anche il sindaco Giovanni Tedeschi, contattato telefonicamente. Tutto come previsto, quindi, 34 familiari delle vittime riceveranno entro marzo dallo Stato italiano 12 milioni di euro, mentre al Comune arriveranno 637 mila euro che l'amministrazione utilizzerà per realizzare opere in memoria di quei sei martiri che il 4 ottobre 1943 vennero giustiziati dai nazisti. Una vicenda complessa perché, dinanzi alla mancata volontà da parte della Germania di pagare per i crimini commessi, a farsene carico nel 2022 è stato lo stesso Stato italiano attraverso il Fondo Crimini di Guerra, stanziato nell'ambito del PNRR. Un importo totale di 61 milioni di euro e mentre altri centri italiani, che hanno subito la stessa sorte, sono in subbuglio e promettono battaglie legali, a Fornelli si può tirare un sospiro di sollievo.